Color Doppler di tiroide, reni, mammella, fase del collo. Nei pazienti con malattie del fegato viene effettuato un nuovo esame ecografico e l'astografia con tecnologia ecografica avanzata per valutare la quantità della fibrosi o indurimento del fegato e la stereotosi epatica, cioè l'accumulo di grasso nel fegato. Presso il centro è anche attivo servizio medico per la diagnosi e la terapia degli entri diabete e del diabete. Centro medico specialistico di gastroenterologia ed epatologia a Caltagerone via Circonvallazione 320. Per prenotazioni telefonare al numero 0933 26561. Repeto, 0933 26561. L'unico, la casa tu puoi redar, avresti davvero a far. Tu scegli noi alla concorrenza, l'unico. Attenzione, presso i locali dell'unico a Comiso è presente il più grande outlet del mobile della Sicilia. Vi aspettiamo per progettare insieme l'arredamento della vostra casa. Riusciremo a realizzare i vostri scritti. Il lusso alla portata di tutti. Approfittatene, vi aspettiamo a Comiso sulla strada provinciale Comiso-Chiaravonte. Aperto anche la domenica pomeriggio. L'unico. Perché l'unico.